Una nuova opportunità offerta da Confartigianato, l'Academy Orizzonti Internazionali, siamo con il dottore Alessandro Barulli, il docente del corso, si comincerà il 6 aprile con una tematica importantissima, l'internazionalizzazione di una micro e piccola impresa. Sì, perché l'internazionalizzazione fondamentalmente è un processo di conoscenza, non puoi metterlo in pratica se non conosci, se non sai. Quindi il primo appuntamento servirà per chiarire molti dubbi, per far capire a tutti coloro che si vogliono avvicinare all'internazionalizzazione in che cosa consiste l'internazionalizzazione, che è un qualche cosa di diverso dal semplice vendere all'estero, per cui faremo cultura aziendale di questo processo che ormai è imprescindibile per le micro, piccole, medie e grandi aziende italiane.